A i segni evidenti di una violenza in faccia e sul corpo Paola Marzenta, la donna che ha ucciso con un colpo di fucile il marito Dino Gori lo scorso 12 ottobre all'Onnano, comune di Prato Vecchio. Sono gli ultimi particolari che emergono di questa drammatica vicenda e cui contorni però sono ancora opachi. Pare che la fucilata mortale contro il sessantenne sia stata esplosa proprio durante una lite violenta. In retroscena sono stati svelati da Saverio Agostini, l'avvocato della donna, contro la quale pende il capo di imputazione di omicidio volontario e che si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano. Nella giornata del 21 di ottobre è previsto l'interrogatorio da parte del GIP Giampiero Borraccia nell'udienza di convalida dell'arresto. Non è detto che la donna però possa interrompere il suo silenzio, potrebbe, vista anche la sua pesante condizione psicologica, avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto è stato affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima e per accertare la natura e l'entità delle lesioni che sono state rinvenute sulla donna. Grazie a tutti.